Si sta montando a Torino il Totem della Pace Tricolore in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Siamo tra il Corso Lecce e il Corso Regina Margherita e con una speciale gru di 25 tonnellate di ferro si calano sulle 80 di acciaio. Siamo dalla sommità del Totem della Pace, Corso Lecce e Corso Regina Margherita. Abbiamo controllato gli ultimi attacchi, le viti e tutto il dettaglio tecnico dell'opera monumentale che stiamo completando. Grazie a tutti. Siamo a Torino, ce l'abbiamo fatta con il Totem della Pace Tricolore, è vero? È vero, anzi ce l'hai fatta. Grazie, Vesuvio ce l'ha fatta. Vesuvio ce l'ha fatta. Grazie. Qua l'ho qua. Grazie. Grazie.